La vera forma dell'intersezione di un cono con un piano perpendicolare al piano verticale e al piano orizzontale è parallelo all'asse del cono. Disegna le proiezioni ortogonali di un cono retto con base appoggiata sul piano orizzontale. Disegna le tracce del piano alfa sul piano verticale e sul piano orizzontale. Esse coincidono con le immagini della sezione. Per definire la sezione sul piano laterale, disegna sul piano verticale le tracce dei piani secanti ausiliari, perpendicolari all'asse del cono, e prolungale fino al piano laterale. Proietta i punti di intersezione tra la generatrice V'A' del cono e le tracce dei piani ausiliari, con linee parallele all'asse Z sulla generatrice V'A' nel piano orizzontale, e disegna i cerchi concentrici generati dai piani ausiliari. Dal piano orizzontale, proietta i punti di intersezione tra le tracce del piano sezionatore e dei piani ausiliari, sulle rispettive tracce nel piano laterale. Unisci i punti trovati per ottenere il contorno della sezione del cono nelle sue dimensioni reali.